La storia della passione, la storia di Cristo, la storia della risurrezione, la storia e quindi il racconto della morte di Gesù e dopo vedremo quella della risurrezione, non è una storia del passato, non è una storia di ieri, non è un racconto avvenuto tanti anni fa e che noi abbiamo ascoltato e che sentendo o rivivendolo ci commuoviamo anche. No, la storia della passione di Cristo è la storia di ciascuno di noi, è la storia di ogni persona, cristiano o non cristiano? Diceva Blais Pascal, questo pensatore, grande convertito francese, che l'agonia di Cristo continuerà fino a quando sulla terra ci sarà una persona che soffre. Quindi la storia, la passione di Cristo è la nostra passione. Nella scrittura, nell'acconto specifico della passione, vi sono tanti personaggi ed è bello lasciarci provocare da questi personaggi. Come vi ho accennato, in questa settimana ci faremo aiutare da un vescovo, Monsignor Giangarlo Bregantini, attraverso alcune sue riflessioni. In una omelia celebrata, in un'omelia tenuta, chiedo scusa, nella cattedrale di Locri, lui invitava le persone a chiedersi chi siamo noi, in quale personaggio ci identifichiamo. è un modo per vivere meglio la nostra vita di fede, per vivere e cercare di far entrare nella nostra esistenza i frutti della passione di Cristo. Quali sono i personaggi in cui ci possiamo e dobbiamo identificarci, da cui ci dobbiamo lasciar interrogare? I primi sono i discepoli, quei discepoli che nonostante abbiano vissuto con il Maestro per circa tre anni, poi nel momento della passione dormono, oppure scappano, oppure guardano, come sappiamo dai Vangeli, guardano tutto quello che sta accadendo al Maestro da lontano. Quante volte noi viviamo la nostra fede, noi viviamo il nostro dirci cristiani, il nostro dirci testimoni del Vangelo, lo viviamo da lontano. Lo viviamo senza lasciarci coinvolgere, senza sentirci interpellati in prima persona. Quante volte viviamo una fede sonnolenta, apatica, oppure una fede che molte volte tradiamo per paura, perché Cristo è esigente, ma non perché è un uomo o un Dio severo, no, perché è l'amore che è esigente, è l'amore che esige da noi la fedeltà. Ecco che questa settimana santa ci aiuti ad essere dei discepoli peccatori, ma fedeli e in cammino per vivere una fede e vivere il Vangelo con coerenza. Noi ci vediamo domani, Padri.tv, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!